Assessore, per stato il giuramento quali deleghe le ha assegnato il sindaco? Mi ha assegnato una serie di deleghe, prima di tutto l'assessorato alla sanità, essendo un medico, quindi ha pensato prima di tutto ad assegnarmi proprio questa. Poi le altre deleghe che ho avuto assegnate dal sindaco Marella Bruno sono la delega alla solidarietà sociale, alla protezione civile, all'informatizzazione, alla polizia municipale e alla sicurezza urbana, all'arredo urbano, ville, giardino e verde pubblico. Sono passati 15 giorni già dalla mia nomina e mi sono già subito messo al lavoro. La prossima settimana, tanto per fare un esempio, inizierà il servizio di pulizia, di decespugliamento in tutto il paese, quindi nel centro urbano e in periferia, come anche a Siculiana Marina che è il nostro centro balneare perché si avvicina alla stagione turistica e quindi dobbiamo metterci immediatamente in moto. Dopodiché ho dato anche disposizione di preparare le opere di disinvestazione e di eratizzazione che vanno a seguire la polizia del paese perché ora le larve cominciano a chiudersi e quindi comincia ad essere ora proprio il periodo idoneo per fare questo tipo di interventi. Una cosa recentissima per quanto riguarda la protezione civile mi sto interessando di andare a costituire immediatamente il gruppo dei volontari della protezione civile che è una cosa importantissima, noi siamo un comune che si affaccia sul Mediterraneo, in questo momento si parla di questi sbarchi, di tutti questi immigrati che arrivano, quindi avere in un comune un gruppo della protezione civile, un gruppo di persone, di giovani che lavorano, che possono essere impiegati in momenti di emergenza è sicuramente importante. Io ho già predisposto il regolamento che dovrebbe essere soltanto rivisto un po' dal dirigente dell'ufficio tecnico, dopodiché andrà in consiglio comunale per l'approvazione e allora poi cominceremo ad arruolare questi giovani che avranno il desiderio di poter fare qualcosa per il proprio paese.